In occasione della 22esima edizione di Corri la Vita, manifestazione che unisce sport, culture e solidarietà che si terrà domenica a Firenze, Piazza della Repubblica ospita il Villaggio della Salute. Per tre giorni, dalle 10 alle 17, sarà un vero e proprio centro fitness. Questo villaggio l'abbiamo fortemente voluto perché Corri la Vita è una festa, una giornata di festa, però 365 giorni l'anno noi lavoriamo a dei progetti importanti. Lo stile di vita, la salute, l'alimentazione, lo sport erano necessari integrarli nei nostri progetti. Quindi abbiamo fatto due giorni prima questo Villaggio della Salute dove avremo il nostro mammografo dell'Ispro che si è chiamato Corri la Vita, per cui ci abbiamo lavorato due anni, siamo molto fieri di questo e poi delle pillole di salute, le ultime magliette che sono ormai rimaste solo extra large e siamo molto felici perché da un lato ci dispiace ma dall'altro sono proprio diventate un must che tutti vogliono, per cui siamo molto contenti. La nuovissima unità mobile Ispro, presente in Piazza della Repubblica, ha un mammografo di ultima generazione. Faremo attività mammografica, alle donne che verranno forniremo la possibilità di effettuare anche lo screening per l'epatite C, altre grande battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme, inoltre la possibilità di poter acquisire il kit per il sangue occulto e riconsegnare il kit, infatti ovviamente il mezzo è dotato anche di selle frigorifero, proprio per riacquisire relativi campioni e poi ci saranno i nostri esperti che potranno ovviamente fornire qualsiasi informazione e parlare di prevenzione oncologica a tutto tondo anche con riferimento agli stili di vita.